L'incanto della voce bianca dei bambini, canti natalizi e un clima di feste e condivisione è accaduta alla chiesa Sant'Antonio a Gela in occasione del concerto tenuto dagli scolari della Luigi Capuana, diretta da Concetta Mongelli. Lavoro in continuità, anche continuità didattica, verticale, ma anche in continuità orizzontale. La parrocchia è un'agenzia educativa che lavora insieme alla scuola e quale momento migliore per lavorare insieme e quindi nei locali della parrocchia insieme al parroco Michele Mattina. Questa sera i bambini di classe quinta passano il testimone ai bimbi piccini di 5 anni e stanno lavorando insieme in coreografie anche parecchio complicate e molto stimolanti per conoscersi, perché i grandi possano aiutare i piccoli nei movimenti, in tutto ciò che ne devono dire ma anche perché i piccoli possano conoscere direttamente con delle attività pratiche i futuri docenti delle classi prime.